Si riunisce domani alle 18 il Consiglio Provinciale di Agrigento convocato dal Presidente Raimondo Buscemi. In discussione 19 punti, 5 sono le interrogazioni presentate dai consiglieri provinciali, quella del consigliere Daniele Camilleri sulla modifica dello Statuto del Cupa e sulla realizzazione dello scalo aeroportuale di Licata, quella del consigliere Mario Lazzano sul polo universitario. Domani saranno oltre discusse in Consiglio Provinciale l'interrogazione presentata dal consigliere Lillo Loleggio sulla manutenzione straordinaria della strada provinciale 10 in territorio di Campobello di Licata. Il consigliere Loleggio con la sua iniziativa ha chiesto al Presidente Dorsi, all'assessore ai lavori pubblici Luca Salvato, di sapere quali interventi urgenti sono stati programmati dall'amministrazione provinciale per fronteggiare il deterioramento completo e assoluto della strada provinciale 10 in seguito alla chiusura del 12 marzo per frana da parte dell'ANAS della statale 123 al chilometro 20 con la conseguente deviazione di tutto il traffico veicolare. L'importante arteria provinciale è stata completamente danneggiata, sostiene Loleggio nella parte terminale e nei prossimi mesi sarà interamente impercorribile. Infine l'interrogazione dei consiglieri Avarello e Spoto sull'eventuale azzeramento della Giunta. Nove invece riconoscimenti di debiti fuori bilancio da approvare a seguito di sentenze della magistratura. Prevista anche la discussione delle relazioni semestrali del 2009 primo e secondo semestre del presidente della provincia Eugenio Dorsi. Il regolamento per le adunanze e il funzionamento del consiglio provinciale delle commissioni consigliari e la modifica del regolamento per l'assegnazione dei fondi agli istituti di istruzione secondaria di pertenenza provinciale. L'ultimo punto riguarda la mozione del consigliere Gioacchino Zarbo su una strada di collegamento con la statale 640. Grazie a tutti.